Torna in campo la Tourist di Mister Caneo, impegnata nella trasferta in Calabria contro la Vibonese, ultima in classifica e ancora a secco di vittoria in campionato. Ma i Corallini, reduci dal clamoroso K.O. interno di settimana scorsa contro il Picerno, dovranno affrontare con la dovuta attenzione un avversario che sembrerebbe sulla carta alla portata, per evitare un altro scivolone che rischierebbe di compromettere l'avvio di stagione già contraddistinto da diversi alti e bassi. Nell'ultima trasferta disputata la Tourist aveva offerto un'ottima prestazione andando ad espugnare il campo del Foggia e da questo punto di vista allenatore, società e tifosi si augurano di riprendere il filo da dove si era lasciato. Buone notizie dall'infermeria, è tornato in gruppo Lorenzini ed è quindi disponibile per la trasferta a Vibo Valencia, dove però mancherà il portiere Perina per la squalifica rimediata nel finale dell'ultimo match.